I sorprendenti intrecci del pallone hanno riportato Matteo Ardemagni a Perugia quasi un decennio dopo il suo primo approccio nel calcio dei grandi. Gli stessi intrecci che hanno fatto ritrovare ad Andrea Mantovani i colori bianco-rossi dopo aver affrontato il grifo da giovanissimo con la maglia del Torino nella finale play-off dell'ultima stagione delle Ragauci. Con i due colpi del mercato invernale, al termine della prima giornata della nuova avventura a Pian di Massiano, c'è anche il gigante egiziano Ahmed Eghazi. Beh, torno da dove sono partito, diciamo, no? Qua è stata la mia prima esperienza professionista in C1 dieci anni fa, quindi fa un certo effetto sicuramente perché insomma ho ritrovato anche delle persone che conoscevo già, che erano già qua dieci anni fa. Torno con tanto entusiasmo, con tanta voglia di riscatto, dopo questi sei mesi insomma non positiva a Spezia. Voglio, voglio di far bene, sicuramente di ritornare in una grande piazza come Perugia, una grande curva, un grande tifo e insomma spero di far bene e mi metterò sicuramente a disposizione del mister, dei miei compagni per rilanciarmi. Ecco, ho avuto altre offerte, cinque o sei offerte, ma insomma quando mi ha detto di Perugia, insomma da una parte la mia scelta era già stata presa. Una piazza come Perugia la conoscevo già da dieci anni fa, in cui ho fatto uno spareggio per la Serie A, quindi ho sentito subito il calore di questa piazza. Non si discute, è una piazza importante. Per ripartire penso che era la soluzione giusta, ci siamo trovati d'accordo con il direttore, insomma sono qua con tanto entusiasmo e voglia di fare. Quindi poi dare una mano, cercare, ci sono tanti ragazzi anche giovani, tutto, magari con un po' di esperienza guidarli, aiutarli, quindi ci sono tutti i presupposti per far bene e sicuramente sono molto felice di essere qua. Anche qua il primo giorno è arrivato, ho visto tifosi fuori, volevo sempre vencere, questa è una cosa bella e speriamo di fare il massimo questa stagione per la squadra, anche per la piazza, tifosi grandissimi. Ardemagni ritorna a Perugia per segnare quei gol che sono mancati nella prima parte di stagione, magari in coppia con Diego Falcinelli. Quando sono arrivato gli ho detto guarda che vengo con te a prendere le botte da davanti. Falcinelli l'ho sempre seguito e tra l'altro l'ho sempre stimato come giocatore, non lo dico perché sono qua, ma veramente mi è sempre piaciuto come attaccante. Poi lui secondo me è anche un bravo, forse io sono più una punta d'aria, mi piace la profondità, lui è anche bravo a venire tra le linee, a prendere palla, insomma anche fuori dall'aria, secondo me possiamo anche coesistere da davanti. Secondo me, insomma, la carta possiamo puntare a qualcosa di più importante, per la salvezza. Ovvio, è normale che prima arriva una salvezza meglio è, però non vedo squadre, a parte il Catania, forse che ha rivoluzionato tutta la squadra, superiore. Possiamo giocarcela fino alla fine e puntare secondo me è più. Grazie.